ciao a tutti ragazzi finalmente mi faccio vedere e ho appena finito di dopo tanto tempo vi faccio vedere lo so che non vi manca la mia faccia però mi faccio vedere lo stesso mi dispiace per voi allora appena ha finito di vedere tv8 la prima puntata di tv8 champions night e la prima puntata di giapas night allora è andato tutto come previsto ma c'è una particolarità di cui magari non ve ne può fregare di me non ve ne può fregare di meno ma la voglio dire semplicemente perché voglio essere preciso cerco di essere preciso allora la particolarità è questa allora vi ricordate i primi anni di medire gol come erano fatti non c'era subito lo studio le prime due edizioni erano fatte senza studio durava mezz'ora ogni domenica e c'era su una raffica di video riguardanti la giornata di campionato più il calcio internazionale eccetera il jalapas night è fatto diverso cioè è fatto diciamo con lo studio con lo stesso studio di tv8 champions night e a interagire con la jalapas cioè non solo ci sono i filmati ma ci sono anche le interazioni con gli ospiti in studio tipo walter zenga nicola salvino come è successo questa sera i conduttori eccetera più limitazioni di max giusti in sostanza tv8 champions night e della past night viene fatto insieme è solo che diciamo nella prima ora di proprio di programma viene fatto appunto il programma c'è il format champions night e nella prossima mezz'ora viene occupata diciamo dalla satira della jalapas band sempre fatti in studio con i conduttori leo di bello eccetera hanno fatto vedere i lissi hanno fatto vedere anche un po di calcio internazionale e altre belle cose se avete visto i due format fatemi sapere ditevi cosa cosa ne pensate e per adesso gli appuntamenti sono sono questi appuntamenti già la piani cioè da lunedì a venerdì alle 9 alle 10 o dalle 9 alle 11 con marco santin ci sarà a maryland su radio capital e il 2 di ottobre alla stessa ora torna ti vuoto c'è più state e già la past night e già la possono si sa quando torna ma ritornerà ma ne parleremo più avanti detto questo buonanotte a tutti ciao da nicola alla prossima